Siamo arrivati. Conosci questo posto? Più o meno. Prego. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, si ricorda? Come no? L'altra sera ci ha fatto bere degli ottimi vini al centro. Ne ancora, come si chiamava, Bernaccia? Di San Gimignano. Perfetto. Per te, Foschino? La stessa cosa, grazie. Arrivo subito. Conosci anche il proprietario? Sì, lo conosco abbastanza bene. Dove è nato di San Gimignano? Certo, e quando vuole la Foscala è proprio buona. E dici, oggi vuole? Secondo me quello lattizza parecchio. Lattizza? Come parli, Susi? Via, via. Sta buona, eh? Ho saputo cosa è successo a Morucci. Ho letto quello di cui l'accusano. E mi è venuto in mente che la romanza che ha cantato la Fischer l'altra sera al ceppo era e ben andrò lontana, tratto dalla Valli. È un'aria famosa e molto impegnativa. Grazie.